Ciao a tutti e benvenuti nel dodicesimo episodio della serie Vardiamone, serie che giornata dopo giornata vado ad analizzare gli episodi arbitrali più dubbi e discussi. Prima di iniziare però volevo ricordarvi di lasciare un piaccia al video, di iscrivervi al canale e di lasciare un commento qua sotto con i vostri personali pareri sui vari episodi che oggi andremo ad analizzare. In una giornata che prima della sosta delle nazionali non è stata sicuramente positiva per gli arbitri, alcune insufficienze, alcune più gravi altre meno, un po' di errori che hanno suscitato parecchie polemiche soprattutto in due post gara che dopo andremo a vedere e anche arbitri che solitamente hanno fatto sempre bene in questo campionato hanno faticato. E partiamo proprio da quest'ultimo e stiamo parlando di Orsato che ha arbitrato Genoa e Las Verona, a cui abbiamo ricevuto il signore come voto sei meno. Un arbitro che nelle prime giornate in questo campionato ha arbitrato sempre al top, si è dimostrato ancora una volta uno dei migliori. In questa giornata, in una gara che poi non è risultata troppo accesa in campo, non ha fatto sicuramente una delle sue migliori prestazioni. Un solo episodio dove la sua decisione dubbia e dove in questi casi il VAR non interviene essendo proprio una decisione al limite e quindi conseguentemente facendo rimanere la decisione di campo. E stiamo parlando del possibile calcio di rigore da signora Lellas nel contatto avvenuto tra Haps e Faraoni. Contatto al limite, diciamo che se Orsato avesse fischiato calcio di rigore non ci sarebbero state grosse polemiche, l'arbitro comunque ha deciso di non farlo e è una decisione molto al limite. Andiamo avanti con Sassuolo, Salernitana arbitrata da Gherzini, a cui è un liceo di assegnare come voto sei più. Anche qui una gara abbastanza tranquilla, anche se poi dal punto di vista di gol è stata una gara abbastanza divertente. Due episodi, partiamo dal primo, il possibile calcio di rigore da signora Sassuolo, giustamente non assegnato nel contatto tra Mazzocchi e Berardi, dal punto di vista disciplinare eccessivo il giallo per i due mesi. Proseguiamo con Juventus-Cagliari arbitrata da Piccinini, a cui abbiamo liceo di assegnare come voto sei e mezzo. Anche qui una buona gara, un solo episodio dubbio, le altre decisioni sono corrette dal punto di vista di episodi importanti, qualche errore dal punto di vista disciplinare. Partiamo proprio da quest'ultimo, dall'errore dal punto di vista disciplinare, infatti manca un cartellino giallo per Bremer. Gli altri tre episodi, dubbio, partiamo da quell'episodio dubbio, che è quello del possibile calcio di rigore da signora Juve per il tocco di braccio di Augello. Decisione che ci poteva stare, siamo ai limiti, qua in questi casi il VAR interviene se ha tutti i presupposti per stabilire che il tocco fosse punibile col calcio di rigore. In questo caso non c'erano, ma anche in questo caso, come in Genoa e Las Verona, se Piccinini avesse fischiato calcio di rigore non ci sarebbero state polemiche e sarebbe stata una decisione che il VAR avrebbe supportato. Altri due episodi, il gol di Rugani, giustamente convalidato, infatti non c'è niente di regolare sia dal punto di vista dei fuorigiochi sia dal punto di vista dei possibili tocchi di mano, nonostante poi sia stata un'azione molto concitata e un gol abbastanza rocambolesco. È giusto invece non assegnare calcio di rigore al Cagliari per il tocco di mani di Kostic, questa volta non punibile. Andiamo avanti con Lecce-Milan, gara che ha suscitato tantissime polemiche da parte della dirigenza del Lecce, in gran parte poi squalificata per le prossime settimane. Gara arbitrata da Abisso, a cui abbiamo l'ecciso del Signore come voto 5. Andiamo a vedere proprio l'episodio, sicuramente uno degli episodi più importanti di questa giornata, stiamo parlando del gol della rimonta annullato a Piccoli. Decisione che ci può stare, perché comunque Piccoli, da questo fra immagine si vede, va a pestare il piede di Chao. Decisione dubbia, perché comunque sia Chao non si va a lamentare per il pestone, si rialza subito e diciamo che è una situazione al limite, perché è vero che comunque è un contatto falloso, ma durante le partite, che poi è anche il motivo per cui tanti membri della dirigenza del Lecce si sono lamentati, prima di ogni gol allora bisognerebbe andare a vedere tutti i pestoni, tutti i possibili falli. È una decisione che ci può stare, come detto, perché comunque il fallo ci può stare, però siamo veramente al limite sull'utilizzo del VAR, sulla decisione di utilizzare il VAR in questo caso, forse la decisione di campo sarebbe stata più corretta. Molto probabilmente Abisso ha dichiarato di non aver visto nessun pestone di Piccoli. Decisione, come detto, difficile, ma che sotto alcuni punti di vista ci può stare, sotto altri punti di vista un po' meno. Altro episodio, anche in questo caso Abisso non ha preso proprio la decisione corretta, stiamo parlando del possibile calcio di rigore da segnare al Milan per il tocco di braccio di Dorgo. Continuiamo con Inter, Frosinone, arbitrata da Dionisi, a cui abbiamo deciso di segnare come voto 6. Partiamo dal rigore assegnato all'Inter, anche questo ha suscitato qualche polemica, perché è un contatto che c'è, netto, ma sembra più Turam che vada a cercare di essere colpito dalla gamba del difensore. L'arbitro dal campo e dalla diretta sembrava un rigore netto, il tocco c'è, però poi dai fermi immagini, dai replay, si vede come Turam sia andato a cercare la gamba del difensore, che la stava quasi ritraendo. Quindi siamo al limite rigore che ci può stare. Sicuramente nella gara c'è un altro contatto che era sicuramente più punibile di questo, stiamo parlando del contatto avvenuto tra Lirola e Mkhitaryan, dove in questo caso Dionisi ha deciso di non fischiare calcio di rigore, ma in questo caso il contatto sarebbe stato più punibile rispetto a quello precedente. Altro contatto in area di rigore del Frosinone, questa volta l'arbitro ha preso la decisione corretta, cioè quello di non segnare calcio di rigore all'Inter nel contatto avvenuto tra Monterisi e Lautaro Martinez. Proseguiamo col derby della capitale, stiamo parlando di Lazio-Roma, arbitratta da Massa a cui abbiamo ricevuto il Signore come voto 7. Buon arbitraggio sugli episodi più importanti, come sempre poi Massa pecca dal punto di vista disciplinare, in un metro non sempre corretto e soprattutto equo da tutte e due le parti. Partiamo subito dagli episodi più importanti, il più importante è sicuramente quello avvenuto nell'area di rigore della Roma, nel contatto tra Immobile e Llorente, giusto non assegnare calcio di rigore per due motivi, uno la trattenuta è più visiva che poi che va a ostruire il tiro di Immobile, perché si vede da queste due immagini come la maglia si è attirata, ma poi l'intensità non sembra essere così forte, e poi a iniziazione, come si vede sopra, è Immobile anche che va a trattenere la maglia di Llorente, quindi in questi casi è sempre giusto lasciar proseguire, ed è stato bravo Massa a non essere tratto in inganno dalla maglia di Immobile nettamente tirata da Llorente. Altri episodi, sempre nell'area di rigore della Roma, stiamo parlando di un possibile calcio di rigore da Signora Lazio nel contatto tra Mancini Immobile, giustamente non assegnato, così come nel contatto tra Pedro e Llorente. Altra decisione dove Massa e soprattutto i suoi guardalini hanno preso la decisione corretta è quella del gol giustamente annullato a Cristante per fuorigioco, dal punto di vista disciplinare non benissimo, visto che mancano un giallo per Lukaku, Pedro e Marusic, e inoltre il giallo per Mancini è troppo severo, quindi ancora Massa buona gara sulle decisioni importanti, ma c'è ancora da lavorare tanto sul giudizio e sull'equità dei cartellini gialli distribuiti durante la gara. Nonostante questa sia stata una gara molto accesa, essendo il derby di Roma e conseguentemente allenato da due allenatori che traggono molta polemica negli episodi durante i 90 minuti. Andiamo avanti con Fiorentina. Bologna, gara densa di episodi, arbitrata da Maresca, Acquabion decise il signore come voto 6+. Ben tre possibili calci di rigore assegnati. Partiamo dal primo, che è il rigore assegnato al Bologna, dove è intervenuto il VAR correttamente, perché Parisi va a toccare il pallone con la mano. Salto molto scordinato, braccia in posizione non idonea, e quindi giusto punire il calcio di rigore. Difficile vederlo dal campo, il VAR è intervenuto e ha salvato Maresca da questa decisione. Bravo invece Maresca dal signore di rigore alla Fiorentina, sicuramente più vistoso rispetto a quello precedente, il giocatore del Bologna va a trattenere in modo molto ingenuo Iconè che è molto furbo a lasciarsi cadere e quindi a prendere a Maresca la decisione corretta, che è quella del rigore assegnato alla Fiorentina. Maresca che invece prende la decisione sbagliata dal campo, ma che poi si corregge con un file di review, nel contatto per un altro possibile calcio di rigore per il Bologna, nel contatto tra Artur e Salem Eakers. Contatto ai limiti, però per il metro tenuto durante la gara, soprattutto perché poi Artur non va mai a cercare di commettere fallo, nonostante poi Salem Eakers sia davanti col corpo, di conseguenza il contatto non è punibile. Artur usa tutto il corpo, statura diversa, sicuramente Salem Eakers si mette davanti, ma se poi si va a vedere il replay, ma anche come si vede da questo filmagine, soprattutto nell'immagine sopra, Artur non fa nessun movimento, sia di gambe, sia nella parte alta del corpo, per far fallo su Salem Eakers. È un contatto molto importante dal punto di vista fisico, ma non falloso. E quindi Maresca, poi grazie al VAR, è riuscito a tornare indietro sui propri passi e a salvare la sua decisione. Dal punto di vista disciplinare, invece, una gara sicuramente non positiva, visto che manca un cartellino giallo per Buonaventura ed inoltre manca un cartellino rosso per Salem Eakers. Continuiamo con Udinese Atalanta, arbitrata da Aureliano, a cui abbiamo deciso del Signore come voto 6+. Un solo episodio e stiamo parlando del rigore assegnato all'Udinese. Rigore netto, Carnesecchi è in netto ritardo su Joao Ferrera, lo va a colpire. Unica pecca di questa gara è che manca il cartellino giallo per Carnesecchi, perché comunque è un fallo punibile e passibile di Cartellino giallo. Comunque, una gara arbitrata da Aureliano, abbastanza bene. Andiamo avanti con Napoli-Empoli, arbitrata da Prontera, a cui abbiamo deciso del Signore come voto 6.5. Un solo episodio e stiamo parlando del gol annullato a Simeone per fuorigioco. Corretta la decisione in una gara tranquilla e che poi ha avuto un risultato abbastanza clamoroso, che ha portato poi all'esonero di Rudy Garcia. Infine, concludiamo le dieci partite con Monza-Torino, arbitrata da Doveri, a cui abbiamo deciso del Signore come voto 6. Gara dove Doveri ha alternato buoni momenti con momenti disastrosi. Stiamo parlando del gol annullato al Torino, gol di Riccardo Rodriguez per un precedente fallo di Zapata su Caldirola. Decisione molto, molto al limite. Prima è stato bravo Doveri a lasciare proseguire l'azione, ma poi ha giudicato falloso un contatto che in realtà non è mai stato falloso, visto che Caldirola si lascia cadere. E qualche dubbio in più, ma questo è un discorso che va più in generale e poi casualmente è successo al Torino, sia in campionato, sia in Coppa Italia, è quello dei contatti fallosi, in questo caso su Lazaro, ma dove i giocatori non sono abbastanza furbi per cadere. Diciamo, usano il buon senso per non cadere per ogni situazione. e sia nella giornata di Coppa Italia contro il Frosinone e sia in questa giornata di campionato contro il Monza, in due episodi molto simili sempre avvenuti ai danni del Torino, entrambi i giocatori non sono caduti e la decisione poi non è stata quella di assegnare calcio di rigore. Questa volta, senza neanche l'intervento del VAR, la scorsa con l'intervento del VAR dopo che l'arbitro aveva assegnato calcio di rigore dal campo. Quindi decisione al limite, giusto anche le polemiche poi dalla dirigenza del Torino che vogliono avere più chiare alcune situazioni dove quando i giocatori non cadono se più il rigore ci può stare, sicuramente una mancanza di furbizia visto poi il metro degli arbitri tenuti in Italia, ma forse è il momento di cambiare su questi episodi. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo con un prossimo video sul canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.